Buonasera a tutti! Lorenzo Marvabend, come state? No, non vi sento. Come state? Ah, ok, ok. Avete buone energie stasera? Le avete accumulate durante la settimana, quindi stasera mi raccomando. Quando tu, la tua pelle, diventate a scopere, non trovo a me. Giura, la tua non sei più niente. La tua pelle, la tua pelle, diventate a scopere, non trovo a scopere, non trovo a scopere, non trovo a scopere, non trovo a scopere. La tua pelle, la tua pelle, non trovo a scopere, non trovo a scopere. La tua pelle, la tua pelle, non trovo a scopere. La tua pelle, la tua pelle, non trovo a scopere. La tua pelle, la tua pelle, non trovo a scopere. 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 Grazie! 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 Grazie!